Grandissima impresa del Dital Volley maschile e i giochi olimpici di Rio. I ragazzi allenati da Blengini hanno vinto il termine di una partita intensa spettacolare di cuore per 3-2 contro gli Stati Uniti. Manchiamo da una finale per loro da Atlanta 96. Gli americani fanno subito capire di che pasta sono fatti e nel corso del primo set mantengono un vantaggio di ben 6 punti. Ma gli azzurri recuperano grazie a Zaitsev e Giannelli la spuntano ai vantaggi con uno spettacolare 30-28. Secondo set ancora equilibrato da entrambe le parti. L'Italia è sempre sul pezzo, gli americani prendono fiducia nei loro mezzi e chiudono ai vantaggi 28-26. L'Ital Volley ha causa un blackout di 6 punti nel terzo set e l'America passeggia con un imbarazzante 25-9. Riscossa nella quarta frazione con Super Zaitsev che annichilisce gli Stars and Stripes per un 25-22 monumentale che porta al tie-break decisivo. Punto punto fino all'otto pari, poi è solo a Zucco per un triunfo strameritato. Mimmo Siena, Speciale News.